buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 6 settembre 2023 a fano c'è il mercato ancora è estate comunque vediamo che nelle pagine dalle pagine dei giornali il turismo non è che va a gonfie vele non è andato nel mese di agosto e a settembre fatica fatica ancora a riconsolidarsi ma vedremo quello che dicono gli operatori sfogliando le pagine dei giornali questa mattina e allora intanto sfogliamo l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica oggi è san zaccaria profeta penultimo dei profeti minori dell'antico testamento visse ai tempi del ritorno dei giudei dall'esilio di babilonia e operò perché fosse ricostruito il tempio distrutto dai babilonesi simbolo della presenza di dio in mezzo alla comunità giudaica questo è san zaccaria profeta ed ora passiamo alle previsioni del tempo tempo buono oggi anche se ci saranno delle velature sulla regione qualche nube nelle aree interne appenniniche più assolato invece sulle pianure e sulle coste le temperature oscilleranno tra i 20 e i 27 gradi i venti sulle coste spireranno da nord nord ovest mentre nell'interno da nord est il mare leggermente mosso il vento dovrebbe attenuarsi leggermente rispetto a quello di ieri abbiamo sulla scrivania il corriere adriatico quindi lo apriamo sulla pagina di fano e vediamo l'apertura ho preannunciato che il tema sarebbe stato quello del turismo lo è anche sul resto del carlino quindi vedremo insieme i due articoli di apertura turismo il piano strategico al palo salvi grazie all'aumento dei prezzi hanno dichiarato gli operatori ci sono delle interviste che sono evidenziate da questo articolo sul corriere adriatico parla mauro giampaoli che è stato per anni direttore dell'ufficio turismo di fano e ora gestisce l'hotel paradise in sassonia parla anche boris rapa che è stato consigliere regionale sì però è un operatore turistico infatti gestisce l'hotel casadei della zona sud del fiume metauro e parla anche luciano cecchini che sì è un rappresentante di categoria per quanto riguarda la presidenza dell'associazione alberghi consoziati ma lui stesso è un operatore turistico è un albergatore gestisce l'hotel metauro nei pressi del fiume metauro ebbene che cosa emerge da questi giudizi emerge soprattutto una constatazione non certo buona quella di una perdita di presenze nel mese di agosto che solitamente il mese che dà la possibilità alle aziende di rifarsi del 20 per cento ma non è tanto dicono gli operatori importante questa perdita bisogna vedere per verificare l'andamento del turismo come va il fatturato ebbene il fatturato quest'anno sembra che si sia salvato grazie all'aumento dei prezzi sì perché in concomitanza con l'andamento dell'economia nazionale anche i nostri operatori di poco ma hanno aumentato i prezzi e questo probabilmente ha salvato un po il budget del mese di agosto comunque occorre rivedere un po anche le strategie dato che per quanto riguarda i turisti esteri c'è stato un calo vistoso la promozione effettuata all'estero non è stata sufficiente Gandia e Londra sono stati i due posti dove si è insistito di più ma i risultati sono stati deludenti sono stati scarsi ecco perché si cerca di rivedere un po tutta la situazione e poi vediamo invece un articolo che riguarda i servizi sociali nella seconda pagina del Corriere Adriatico per quanto riguarda l'apertura incarico 30 minori stranieri a 18 anni il nodo della casa i servizi sociali attestano il buon esito dell'accompagnamento all'autonomia anche nel nostro territorio soggiornano i minori che provengono da altri paesi che sono giunti in Italia non accompagnati ebbene per la loro sistemazione ci sono provvidenze che vengono garantite da un apposito fondo nazionale ministeriale sono una trentina anzi sono 25 le presenze mensili nell'attuale fase che il comune gestisce attualmente questa è la media e attualmente in carico ce ne sono 16 sono giovanissimi e sono ospiti della comunità di belgato altri 10 sono collocati in strutture educative marchigiane sono a carico dunque dell'amministrazione comunale e si cerca appunto di trovare per loro anche una sistemazione perché poi quando dovranno abbandonare questi alloggi si trovano in mezzo a una strada e poi parliamo di una bella iniziativa anzi riparliamo di una bella iniziativa che ha organizzato l'Avis di Fano si tratta di coloro di colora la vita quella bella corsa tutta colorata ci si sporca con le polveri colorate ma è un bel è un bel vedere un bel divertirsi questa volta invece che effettuarsi nella pista d'atletica della trave si farà invece nel parco di centinarola da dove verrà la partenza l'iniziativa si ripete questa volta per la seconda volta nel corrente anno e i fondi che verranno ricavati dalle iscrizioni verranno devoluti a casa serena che da una sessantina d'anni accoglie ragazze e donne con disabilità fisica e psichica quindi un'istituzione benemerita gestita dalle suore orionine passiamo a Fossombrone a Fossombrone crollano i pezzi di cornicione della chiesa di San Francesco sembra che le chiese intitolate a questo grande santo siano un po' sfortunate perché anche la chiesa di San Francesco a Fano avrebbe bisogno di tanto tanto restauro e di tanta valorizzazione ebbene a Fossombrone si conferma la precarietà di questo edificio chiuso al culto nel 2018 sono stati effettuati dei lavori in precedenza ma evidentemente questi non sono stati sufficienti e ora si cerca di insistere e di sensibilizzare appunto le istituzioni per fare un progetto completo anche perché è pericoloso perché di solito sotto davanti la chiesa parcheggiano delle auto e se cadono dei pezzi di cornicione appunto sulla strada ebbè insomma qualche danno può essere provocato e quindi parliamo di una bella ragazza di una bella ragazza veramente Vanessa Ciavaglia che è stata così giudicata Miss Marche quindi la prima ragazza che ha partecipato a questo concorso che finirà che arriverà alle finali che saranno a Chianciano Terme in Toscana. Il concorso estivo La Bella d'Italia nelle Marche ha incoronato Vanessa Ciavaglia sarà la 18enne a 18 anni, 18enne fanese, la punta di diamante tra le numerose e affascinanti ragazze che rappresenteranno la nostra ragione. Una curiosità, Vanessa è impegnata nella gestione di uno stabilimento balneare a Fano e ha ricevuto l'ambita fascia al termine della selezione a moia di Maiolati Spontini il giornale non dice qual è questo stabilimento perché altrimenti li sarebbe veramente un afflusso di giovani passiamo a Marotta, rotatoria, superato il test, eliminate le code di auto è la grande rotatoria che è stata realizzata all'incrocio tra la Statale 16 e la Cezanense dove prima c'era il semaforo. Il semaforo è stato eliminato ormai da tre mesi e secondo il giudizio del sindaco Nicola Barbieri siamo molto soddisfatti, ha detto, della funzionalità della rotatoria a qualche mese dalla sua attività possiamo dire che la viabilità è notevolmente migliorata era una realizzazione, un'infrastruttura che ci voleva da tempo e finalmente ora entrata pienamente a regime. Giriamo ancora la pagina, passiamo a Senigallia. A Senigallia si profila un evento che verrà così organizzato nel mese di novembre. Ma perché se ne parla ora? Se ne parla ora perché di solito il mese di novembre è un mese in cui le ditte chiudono i battenti perché effettuano un certo periodo di riposo per poi ricominciare in vista del Natale. Ma a novembre a Senigallia si svolge un evento importante, un evento che vede la presenza di molti operatori provenienti dagli Stati Uniti e se vedono le aziende chiuse certo lo spettacolo è deludente. Per Federal Berghie l'European Travel Agent Forum è un'occasione da non perdere per Senigallia. Sono operatori che se persuasi possono inserirci nei percorsi nazionali appunto a livello del turismo e quindi è un appello importante che viene lanciato appunto ora. E diamo un'occhiata invece all'apertura regionale del Corriere Adriatico perché si parla di un argomento che interessa un po' tutte le province. Si parla dell'inizio della scuola e del caro spesa per quanto riguarda i libri di testo. Pensate, un figlio a liceo, pensate, voi lo sapete se avete dei figli, un figlio a liceo costa 1300 euro, per le medie poco meno, 1100 euro. Aumenti fino al 10% della spesa per i libri e altro materiale scolastico. Le associazioni dei consumatori suggeriscono un po' come risparmiare anche il 50% facendo riferimento al mercato dell'usato. E poi ci sono anche testi digitali, mercatini appunto prestiti da parenti o amici. Con questi prezzi c'è il rischio di favorire la dispersione scolastica perché veramente ci sono molte famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese senza le spese dei libri scolastici. Pensate, se devono farsi carico di un'ulteriore spesa di 1300 euro per mandare i figli a scuola. Il salasso sui banchi di scuola, lo vediamo qui evidenziato da questa tabella, è costituito da un aumento del 6,2%. I libri 502,10 euro e la spesa media per ogni studente per i testi obbligatori. Poi ci sono due dizionari che aumentano del 4% rispetto al 2022 per quanto riguarda i loro costi. Questo per quanto riguarda le scuole. Vediamo un po' quello che si differenzia tra le medie e le superiori. Nelle medie la spesa media è di 488,40 euro, nelle superiori è di 695,80 centesimi. Ebbene, una spesa media per studente di classe prima, per i libri di testo, poi ci sono anche i dizionari che hanno una spesa aggiuntiva. Insomma, veramente un vero salasso che dovrebbe essere calmierato dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'apertura sulla pagina di Pesaro, invece, prevede la fiera di San Nicola ed ha delle utili indicazioni per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi. La gincana di San Nicola, navette o bici per sfuggire ai divieti della zona mara. E per quanto riguarda i divieti, ce ne sono veramente tanti. In questa tabella sono elencati i divieti di sosta e di transito che riguardano soprattutto Viale Trieste, Gale Trento, Cesare Battisti, Viale della Repubblica, il piazzale D'Annunzio con la sua nuova sistemazione e poi ancora Viale Verdi, Marconi, Da Vinci, Alighieri, Via Lanfranco, Via Raffaello Sanzio, Via Paterni, Monfalcone, Rovereto, Pola, Fiume, Vaccai e Via Buonarroti. Questo per quanto riguarda il cambio di viabilità. Nella zona mare, da oggi, addirittura, dalle ore 12 di oggi, iniziano i divieti in Viale della Repubblica per una maxitavolata. Ebbè, la maxitavolata a che cosa si riferisce? Ce lo dice quest'altro articolo. La maxitavolata di 2024 pizze, la Rossini, si servirà in bici. Una lunga striscia di pizze, pomodoro, maionese, uova, sode. Questa è la pizza Rossini. Ebbene, sono stati distribuiti tanti, tanti coupon che appunto prenderanno posto. C'è ogni numerino nella tavola, quindi c'ha un posto assegnato ciascuno che ha il coupon. E sarà questa grande abbuffata di pizza che festeggerà un po' la fine dell'estate. Dalle 20 in Viale della Repubblica anche 500 bottiglie per brindare. E qui abbiamo il sindaco che si è messo in prima fila per la pizza di Rossini. Zoccolette, in futuro 15 mini alloggi, un tetto per single e giovani coppie. Anche un centro sociale nell'ex chiesa del Settecento. L'ERAP recupera il complesso della misericordia. Un bel progetto questo che dà la possibilità a famiglie in cerca di alloggio di trovare un appartamento. Mini alloggi ed edilizia agevolata su due piani lungo via della battaglia. 14 più 1, poco più grande, un ritrovo sociale per i giovani come punto e informativo dentro la chiesa del Lazzarini. Una chiesa appunto del Settecento. Tiriamo ancora la pagina e vediamo come si arrampicano di notte i suoi ponteggi per imbrattare Palazzo Cermatori. I vandali si sono mossi pericolosamente sul tetto. Regresso Arti, che è l'associazione che ha la possibilità, che ha anche la competenza di cancellare le scritte vandaliche tracciate sui muri, fa una proposta al Comune. Che cosa dice Regresso Arti? mette a disposizione i suoi restauratori a servizio dell'amministrazione comunale per ottenere in cambio la disponibilità di uno spazio, di una sede di almeno 120 metri quadrati che possa diventare anche un laboratorio d'arte e di manualità a servizio della collettività. Ebbene, che cosa si chiede? Si chiede di collaborare, di incentivare un servizio pubblico e in più si mette a disposizione la propria professionalità per il decoro della città. Ebbene, una proposta senz'altro da accettare. Vediamo anche la pagina di Urbino prima di passare al resto del Carlino. Sulla pagina di Urbino si parla di Schieti, che fa parte del Comune di Urbino, e dei trampoli di questa località. I trampoli finiscono nel registro dell'UNESCO, un gioco che unisce le generazioni. Il sindaco di Urbino, Gambini, ha ricevuto l'attestato nell'ambito del Festival degli Sport Tradizionali Toccati. Anche il Comune di Urbino, in rappresentanza dello splendido borgo di Schieti, come annunciato alcuni giorni fa, era ieri a Roma tra le 15 comunità italiane invitate dal Ministero della Cultura per riterare questo prestigioso riconoscimento. Ebbene, abbiamo terminato l'esame sintetico ovviamente del Corriere Adriatico e diamo un'occhiata ora al resto del Carlino, che come abbiamo detto, apre con un articolo del turismo. Musica e sport salvano il turismo di settembre. Il presidente degli alberghi consoziati, Luciano Cecchini, dice che la Palavolo ci porterà la gente anche a dicembre con ben 900 persone. E sono iniziative queste personalizzate. Ormai non si possono fare più annunci a pioggia anche sul web, insomma si riscuote poco. Occorre operare sistematicamente per attirare turisti con i gemellaggi, con gli incontri individualizzati, con iniziative finalizzate appunto a un obiettivo preciso. Lanciare messaggi a pioggia, fanno una bella località, balneare, arte, cultura, paesaggio, introterra, mare, eccetera. Ebbene, si ottiene poco, l'abbiamo visto. Ebbene, anche però Luciano Cecchini parla di questo calo del turismo del 20%, rinviata alla prossima legislatura la costruzione del nuovo Palace di Chiaruccia da 3.500 posti che potrebbe contribuire un po' ad così arginare questo vuoto di presenze. Una promessa mancata da parte dell'assessore Fanesi e dell'attuale amministrazione, commenta il segretario della Lega Alessandro Brandoni, che compromette lo sviluppo turistico della città. Ebbene, anche questo insomma conta secondo l'opposizione. E poi ci sono altre osservazioni un po' critiche, un po' propositive, che vengono fatte per cercare di cambiare la situazione. Le mille risorse in campo del club di Sassonia, che ha festeggiato 40 anni, una festa con la pubblicazione di un libro che ripercorre un po' tutti i trascorsi, non solo del club, ma anche della situazione ambientale, strutturale, urbanistica della passeggiata di Sassonia. Stagione boom per le donazioni di sangue. E qui abbiamo l'iniziativa che si è svolta ieri. È stata una conferenza stampa, quella organizzata dall'Avis di Fano per presentare colora la vita. Ma nello stesso tempo sono stati anche dati i numeri per quanto riguarda le donazioni. Ad oggi a Fano sono state raccolte 2813 sacche, 100 in più dello scorso anno. E questo è importante perché di solito d'estate le donazioni calano, diminuiscono, perché i lavoratori magari sono o in vacanza o sono con la testa da un'altra parte. Invece quest'anno addirittura c'è stato un aumento. 1837 di sangue intero, 976 di plasma. Più uomini che donne, con maggiore incidenza nella fascia d'età tra i 40 e i 50 anni. Questo è un po' il ritratto molto sintetico del donatore. Alla Rocca a giro del mondo in sette ore, incontro tra le comunità straniere. Questo titolo evidenzia una bella iniziativa che si svolgerà sabato prossimo. Si tratta della festa di una notte di fina estate che conclude un po' tutta la lunga serie di incontri e di iniziative che si sono svolte in impronte femminili. Una lunga serie che è iniziata il 2 giugno scorso e si conclude appunto sabato prossimo con questo incontro comprensivo globale che si terrà alla Rocca Malatestiana a partire dalle 16.30. che cosa si vedrà? Ebbene si vedrà, si sentirà musica, ci saranno sfilate con costumi tradizionali, ci saranno prodotti artigianali di vari paesi, si farà una scena etnica, insomma è tutto a ingresso libero e quindi si potrà entrare tranquillamente e trascorrere un bel pomeriggio fino a tarda serata. E vediamo anche che in piazza Rosselli riprendono i lavori del cantiere stradale che poi dovrà preannunciare i lavori di Viale Battisti, nuove regole per quanto riguarda la viabilità per consentire lo svolgimento di questo progetto. Passiamo a Mondavio. A Mondavio si fanno lavori per l'efficientamento energetico. Fiat Luxe sarà di ultima generazione, lo dice il sindaco Mirko Zenobi che ha stanziato 150 mila euro per l'efficientamento energetico della pubblica illuminazione nel centro storico del capoluogo e anche nella frazione di San Michele al Fiume. Quindi una nuova luce, una nuova immagine, perché la luce poi contribuisce molto a rinnovare l'immagine di questo bellissimo centro di Mondavio. Ceriamo ancora la pagina, siamo a Durbino, si parla del Festival del giornalismo culturale che ritorna puntualmente ogni anno nel mese di settembre con i suoi incontri, con i suoi temi, che quest'anno sono temi anche di carattere ambientale. Ci saranno presentazioni di libro, Lectio Magistralis, insomma una iniziativa culturale che qualifica ancora di più la dotta città di Urbino. E poi si parla ancora della festa dell'Aquilone, una festa che ha meritato un bel dieci elode, a parlare in termini universitari. Le contrade hanno fatto centro, lo dice la presidente dell'associazione Isotta Pretelli. Abbiamo lavorato tantissimo, quindi merito anche ai volontari, una edizione che garantisce il futuro. Ma c'è futuro anche a Piobbico per la festa dei brutti. Corsa alla poltrona del re dei brutti, ma è anche festa dei sapori. Piobbico è pronto ad ospitare la tradizionale sagra del polentone alla Carbonara, una specialità gastronomica veramente eccezionale. E poi c'è anche il festival dei brutti da venerdì a domenica sera. Partendo dal polentone, lo stesso secondo gli organizzatori si differisce dai tentativi di imitazione per un piccolo segreto, che poi segreto non è, infatti è il sugo. Insomma è un polentone bianco, un polentone saporito, un polentone che viene da lontano. Vediamo ora anche qualche notizia che riguarda Pesaro, ma siamo in conclusione. Anche il resto del Carlino parla del salasso scuola. Uniti si vince, le mamme organizzano gruppi d'acquisto in cartoleria. E si dice che chi fa da sé fa per tre. E le mamme, spirito di intraprendenza, ne hanno veramente aiosa. Una via dedicata a Forlani. Dopo la commemorazione il Comune lancia l'idea. L'amministrazione starebbe pensando anche di intitolargli un evento speciale, dopo la rievocazione che c'è stata con l'Onorevole Casini. E concludiamo con la maxi tavolata della Rossini. Tutto è pronto. Foto, brindisi e viale della Repubblica chiuso. Anche la sosta qui è vietata. Ognuno avrà il suo posto assegnato col numero presente sul coupon. E poi quindi buon appetito e un buon brindisi per questa pizza tradizionale che evidenzia insomma una delle attrattive più sensibili del turismo pesarese. E questo è tutto per il momento. chiudiamo il giornale. Io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto. A risentirci.